Siamo con Davide De Boni, noto scrittore originario del Veneto, presente questa sera qui a Rionero per questo interessante evento, nonché autore, uno dei 14 autori di questa interessante collana di libri dal titolo I Sette Re di Roma. Spiegaci un po' come è stato il lavoro di squadra tra di voi durante la stesura di questo romanzo. Ci siamo confrontati molto soprattutto per cercare di coordinare i vari romanzi perché sono comunque sette romanzi che possono essere fruiti singolarmente ma che trovano delle concatenazioni tra i vari personaggi che rendono ancora più interessante poi la lettura di tutta la serie complessiva e quindi ci siamo interfacciati soprattutto da questo punto di vista per cercare di allacciare bene i vari romanzi e di far sì che il lettore che poi va a scoprire tutta la saga trovi questi continui rimandi tra un personaggio e l'altro. Un interessante romanzo che descrive in modo preciso e dettagliato quello che era la Roma monarchica. Spiegaci un po' nei minimi dettagli in cosa consiste tutto questo. Sostanzialmente abbiamo preso quelle che sono le fonti storiche di riferimento per quella che è l'età monarchica appunto e quindi i Sette Re di Roma e abbiamo cercato di ricostruire tutto quello che invece le fonti storiche non raccontano romanzandolo in modo tale da completare quelle che sono un po' anche le lacune delle fonti storiche e da interfacciare le varie fonti anche contraddittorie tra loro in modo tale da riuscire a ricostruire tutto quanto il percorso appunto da Romolo quindi dalla fondazione di Roma fino alla caduta della monarchia e alla nascita della Repubblica con appunto la sconfitta, la caduta di Tarquinio Superbo. Uno scrittore sicuramente molto molto affermato, ha girato tanto per l'Italia. Cosa la spinta a partecipare a questa manifestazione del Sud Experience Festival delle Arti Giustino Fortunato? Allora beh innanzitutto l'invito da parte del comune e dell'organizzazione che ringrazio ancora una volta e poi perché comunque quella che è la storia di Roma è anche la storia del Sud, è la storia di tutta Italia è la storia delle nostre radici e quindi in questo festival si parla appunto anche dell'importanza di quelle che sono le radici del Sud Italia e così via e il punto di partenza ideale probabilmente è proprio quello della nostra storia, della storia di Roma che è quella che ha gettato poi le basi per lo sviluppo di tutta la nostra civiltà.